Buongiorno a tutti, avete visto cosa succede a non lavorare in team? Spesso io insisto su questo concetto, ma non perché voglio imporlo, io con queste chiacchierate non voglio imporre nulla a nessuno e non voglio far girare nulla. Chiacchero tenendo fede una mia linea di pensiero, che è sempre stata quella l'unica volta che ho fatto casino e contestazione da tifoso era stata nella stagione 82-83 quando volevo che Ilario Castagnier facesse giocare Vinicio Verza al posto del povero caro grande Tiziano Manfrini. Ecco lì l'unico momento in cui da tifoso 17enne mi ero incarognito. Ma non voglio intendere con questo che ci siano i tifosi incarogniti o meno, dico semplicemente che la mia linea di pensiero è sempre stata naturalmente quella di andare verso ciò che unisce e non verso ciò che divide e poi un minimo di conoscenza, di esperienza di che cosa sia nelle varie epoche storiche, nelle sue varie fasi il Milan ce l'ho e cerco di metterla a disposizione. Poi se ne può fare ascoltando, guardando l'uso, che se ne crede però, l'unica cosa che possiamo fare qui è parlare e ascoltare. Perché noi non facciamo calcio, noi non facciamo sport, noi certo ci diciamo delle cose e cerchiamo di dare un senso quando parlo della collegialità, cosa alla quale credo, perché io ho sempre visto il Milan nel suo mare, nel suo habitat, quando è stato compatto, quando il Milan non è compatto è la fine. E quindi la collegialità e il lavorare in team ci credo, è fondamentale per il Milan. Però ho sbrodolato per due minuti senza arrivare al punto. Avete visto cosa succede a non lavorare in team? La Juventus ha fatto una bella impresa sportiva, ha battuto l'Atalanta strafavorita in finale di Coppa Italia, ma non se la goda, perché sono esplose le tensioni che c'erano all'interno del club, dove evidentemente, deduciamo, quest'anno non si è lavorato in team. E quindi vedete cosa succede. Succede che ti vanno di traverso anche le vittorie. E' questo che bisogna evitare. Il calcio italiano è successo spesso, ho già detto, la Juventus nel 2020 ha vinto lo Scudetto, poi c'è stato l'esonero di Sarri, l'Inter nel 2021 ha vinto lo Scudetto, c'è stato lo strappo di Conte, noi nel 2022 abbiamo vinto lo Scudetto, poi ci sono state un po' di questioni fino al 30 giugno del 2022. Il Napoli l'anno scorso ha vinto lo Scudetto e subito lo strappo di Spalletti e Giuntoli, la Juventus ha vinto la Coppa Italia, caos, Allegri, e invece l'Inter. E invece l'Inter è compatta anche dopo uno Scudetto stravinto come quello che ha appena vinto. Per cui noi dalla fine di questo campionato, quando avremo tutto per tirare definitivamente le somme, quando io vedo che ci sono tifosi che ci tengono molto, perché noi veniamo dipinti dentro un clima di pessimismo, di contestazione, per carità. Diciamo che nella nostra casa di tifosi in questo momento non c'è aria leggera, non c'è aria tranquillina, però io vedo tanti tifosi che hanno una voglia pazza di salutare tutti, ufficialmente Giroud, ma tutti i ragazzi, il mister, lo staff, tutti, contro la Salernitana. C'è voglia di questo saluto. Quindi noi dalla fine del campionato non dovremmo perdere un minuto. E tutte le cose che dovremmo fare, dovremmo farle in modo che siano di facile organicità, di facile inserimento dentro il mood della prossima stagione. Perché non possiamo perdere un minuto. Perché l'Inter parte molto davanti a tutti e, contrariamente a quello che è accaduto un po' negli ultimi anni, un po' a tutti, ha vinto senza strappi. Ha vinto ed è compatta esattamente come nel momento in cui ha vinto. Ho letto le dichiarazioni del sindaco di Milano Sala. Non c'è niente da fare. Caro sindaco, noi purtroppo facciamo fatica a entrare in sintonia. Lui cerca di essere istituzionale. Premierò anche i milanisti quando passeranno da 19 a 20. prima aveva detto che a noi l'Ambrogino non era stato dato nel 2022 perché i giocatori avevano vinto l'ultima giornata e i giocatori dovevano partire per le vacanze. Ecco, lì è un po' meglio. Poi, se sarò ancora sindaco, è chiaro che noi cosa percepiamo, noi caro sindaco Sala? Che lei dice, Premierò ai milanisti, quando passeranno da 19 a 20, se sarò ancora sindaco, che lei si augura di non esserlo da interista. E' così. E quindi, ma va bene, sono cose del calcio, sono cose della vita e vanno bene così. Ieri si è diffuso, percepito un po' di agitazione nel mondo del Milan, di chi segue il Milan, per le frasi di Daniele Massaro, che sono le frasi più innocenti e più doverose, più istituzionali del mondo. Daniele Massaro dice, a domanda sul nuovo allenatore, è tenuto, ma è tenuto non per una questione di protocollo. Daniele Massaro, che ieri ha ricevuto un bellissimo premio alla carriera da uomo di sport al gentleman, alla caserma militare teoria di Milano, Daniele Massaro ha un ruolo importante all'interno del Milan. E quindi lui dice, ma voi dite di Pioli via. Quello che io so è che Pioli ha ancora un anno di contratto e che con la società non c'è ancora stato l'incontro. Noi siamo... Questo è il nostro mood, ragazzi. E' chiaro che io lo capisco perfettamente, che il mondo è già avanti mille miglia rispetto a questo concetto. Ma la compattezza è anche questo, è anche custodire le nostre cose finché non sono effettivamente fatte. Perché il rispetto per un allenatore che ci ha preso al quattordicesimo posto. Avrà perso dei derby, per carità del cielo, alcuni lancinanti e non tolgo nulla a questo. Ci ha presi al quattordicesimo posto. Ti riporta in Europa League, ti riporta in Champions League, ti riporta allo Scudetto, ti riporta in semifinale in Champions League, che ti fa arrivare due volte secondo in quattro campionati dalla prima giornata. Ragazzi, rispetto lo merita, anche perché tutte queste cose sono avvenute con una bella umanità, con una bella professionalità. Quindi le frasi di Daniele Massaro sono le frasi di tutti noi. Stefano Pioli ha ancora un anno di contratto, quando Stefano Pioli e la società si incontreranno e decideranno il da farsi, allora avremo di che parlare. Prima di allora, continuo a vedere nel ginepraio degli allenatori, imminente qui, imminente là. Ragazzi, è imminente da tre settimane, non si è mosso un bene amato nulla. Quindi, calma, calma, calma. Se posso permettermi, alla fine del campionato in poi, non perdiamo nemmeno noi un attimo di tempo a ricompattarci, perché la sfida di tentare la riscossa, contro quest'Inter, fortissima, è molto compata, è durissima. Non possiamo perdere nemmeno il più piccolo refolo di tempo, di vento, di inerzia, di nulla. È fondamentale. Ciao a tutti, ci vediamo se ne andiamo più tardi, dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Grazie. Grazie.